L'Armenia è pronta ad accogliere Papa Francesco a 15 anni dalla storica visita compiuta da San Giovanni Paolo II. La tre giorni, tra il 24 e il 26 giugno, si articolerà tra Jerevan, Ehmiazim e Gümrin, con appuntamenti quali la visita al Presidente della Repubblica e al Memoriale Zizarnega Berd, l'incontro con i Vescovi Cattolici e la Santa Messa in piazza Vartantans. Con noi, padre Nareg Namo Ianna, rettore del Pontificio Collegio Armeno. Per noi sarà il colmine il 25 che avrà una messa solenne a Gümri, la città in cui c'è tanta popolarità cattolica e sarà una messa dedicata anche agli armeni e questa parte che è stata colpita anche da un terremoto, che sono state vittime migliaia di persone, di bambini, di anziani, di famiglie, perciò sarà una visita molto aspettata e ben programmata anche perché lì va come il Santo Padre, come padre anche di tutta questa gente che lo aspetta con tanto entusiasmo e tanto amore. Sappiamo molto bene che il popolo armeno ha sofferto anche 70 anni di comunismo in cui non poteva neanche recitare il rosario, neanche dire che noi siamo cristiani e hanno lottato, hanno dato tanti sacrifici per mantenere questa fede, per mantenere il rosario in mano e pregare in silenzio e nascosto. La visita assume anche un profondo significato nel contesto del dialogo ecumenico con la preghiera per la pace, la partecipazione alla divina liturgia e la firma di una dichiarazione congiunta con il catolicosso di tutti gli armeni, Carichin II, nel solco di quella siglata nel 2001. Sempre aspettiamo e sempre ci abbiamo visto con le sue visite, del Papa Francesco ci dà tanto entusiasmo, ci dà tanto di quello spirito di amore e di ecumenismo, di far sentire alla gente che veramente siamo uniti, siamo uni nel nome di Cristo e con la croce di Cristo. Pensando all'attuale situazione in Armenia, cosa crede che porterà in termini di frutti la visita di Papa Francesco? Sempre le visite del Santo Padre portano dei bei frutti a livello spirituale, a livello economico ma anche a livello politico. Per noi l'Armenia oggi ha tanto bisogno di tutti questi aspetti, ha tanto bisogno di essere vista e conosciuta anche come noi sappiamo molto bene, come un popolo che ha conosciuto il cristianesimo, primo popolo nel 301, ha conosciuto il cristianesimo come religione di Stato, ha dato tanti martiri, ha sofferto tanto e oggi questa Repubblica Armenia ha il mondo al dovere anche di dirlo grazie e di tenerlo forte anche e perciò penso che la visita del Papa sarà un grande soffio di speranza, di amore e di carità come siamo nell'anno della misericordia. Certamente il Santo Padre parlerà della misericordia, dell'amore anche tra di noi e nel mondo.